non mi sono preparata molto per quel che guarda la loro biografia quindi dirò solamente un paio di parole quindi abbiamo un altro paio di settimane quindi quando prenderò più conoscenza della loro appunto biografia vi dirò qualcosa in più so elizabeth torres is a professor in the root girls university in new jersey and elizabeth torres è insegnante all'università di root the universe the name of the university sorry root girls root girls in new jersey quite quite known piuttosto conosciuta and she's the head of the department of is it psychology or psychology la direttrice del reparto di psicologia i was lucky to visit that laboratory a few months ago when i gave a lecture there and it's amazing what the people are there and it's big department with all kind of things that they're doing e sono stata molto fortunata qualche mese fa sono visitate loro al laboratorio ed è incredibile quello che fanno tutte le persone che sono lì proprio incredibile quello che stanno facendo e oltre a questo elisabeth guida anche un istituto ed è la direttrice anche di un istituto dove si lavora con bambini con autismo e lei ha tanto sulle sue spalle davvero davvero but what i my impression was being in your university in your department and in the conference was something very very special e quello che ho sentito io nell'essere quella cosa importante che ho sentito io quando sono stata la conferenza proprio anche nel suo dipartimento è stato qualcosa di molto speciale on the one hand elisabeth has a very deep knowledge of mathematics and science and physics and on the other hand she took it to the practical work with mainly children but not only and you can really feel that very strongly also reading your papers that part of them is very difficult to to understand because it includes a lot of mathematics and all this is a high level but that the human spirit is in there and you don't give up on any of that all the time whatever you do you see the child at the end of that research and that's a tough project in our society e quello che ho visto leggendo tutti i suoi i suoi articoli scientifici che sono anche un po' difficili da leggere perché c'è tantissima matematica ma quello che ho visto che lei non ha mai abbandonato lo spirito umano e quindi comunque alla fine di quello che che è l'esperimento quello che è lei come il bambino è sempre lì e questa è una cosa molto difficile nella nostra società in this conference that maybe we can talk about just a conference one day it was such a wonderful feeling of very high level people working with children and scientists and all of us were there and it was very very clear that we are all there towards something which at the end point will be interesting but serving these real people e quello che è stato molto interessante magari un giorno possiamo parlare della conferenza il fatto che c'erano tutte queste persone questi scienziati di un livello veramente alto ma tutto quello che facevano il risultato finale è comunque un qualcosa che la fine servirà al bambino so that's what elizabeth is going to tell us about i just want to say that you can feel that spirit just visiting the laboratory and there were all the visitors professors and myself and the people who work with you and it was such a wonderful feeling so it influences in this attitude towards the science as a humanistic profession and the children and the life it was everywhere so i'm very glad you're here che la sensazione proprio che ho sentito quando ero lì c'erano eh c'erano gli ospici c'erano i professori c'erano appunto gli scienziati ma proprio dal livello umanistico da livello umano c'è stata proprio questa sensazione del voler far qualcosa per il bambino era proprio presente quindi sono veramente contenta del fatto che lei sia qui okay yeah good okay so thank you ayla um and and thanks for having us here and uh um and for allowing us to bring a little bit of our science into your into your lives and we might not get to the whole talk we'll we'll just go play by ear um um but because there is the science part and then but there's the human part so i i want to kind of emphasize on the on the human part that elad was saying because um it relates very much to the felden christ uh philosophy and the the way i felt i don't know much about felden christ i have to confess i i've been asking how i can get the books to read them but what i experienced of felden christ matches very much the way i think about the science of um our sensations of movement and what brings us together as humans e quello che ho sperimentato tantissimo è quello che c'è anche nella scienza è proprio quello che ci che sperimentiamo che ci porta comunque insieme come umani there is something very essential about movement and and touch that uh connects us c'è qualcosa di molto essenziale nel movimento nel topo che ci connette and uh what i was realized was that it was quantifiable e quello che abbiamo realizzato è che era quantificabile or at least to the extent that we can move together and feel each other together almeno nel punto in cui noi possiamo muoverci insieme e sentirci insieme and so at some point way back before i came to the world of autism and i had already worked on on the problem of motor control for uh for many years and um i had learned that um in in the early stages of of infancy from birth uh very early on uh we humans have these uh this exploratory curious and uh and we're just very playful and very creative uh creatures to begin with that's our like our default um uh state and uh and that remains like that for quite a while until we begin to be exposed somehow to the the ways um societies are these days and sadly um what begins as a playful life and with a lot of autonomy in our bodies and the discovery of how to um ourselves how to how to discover how to control those many autonomously living parts that move and and do things for us e tristemente eh sebbene appunto si nasce così abbiamo appunto questo modo giocoso anche questo modo di eh di scoprire l'abilità che sono di quelle che sono proprio le nostre parti che si muovono we also develop this control over others this ability to control others abbiamo la posse ehm sviluppiamo il controllo appunto su queste parti che possiamo muovere ma sviluppiamo anche un controllo che possiamo avere sugli altri and somehow not balancing that control creates a lot of problems in our lives e in qualche modo non bilanciando questo controllo crea tanti problemi nella nostra vita because it kills our agency perché questo eh uccide le nostre abilità and so it occurred to me that uh we could quantify agency as a balance between autonomy and control quindi a me è venuto in mente che possiamo quantificare appunto l'abilità which is che è un equilibrio tra il controllo the control and sorry so autonomy so the autonomy comes from our autonomic systems our reflexes our uh that we are born with and and uh enables us to survive quindi l'autonomia viene ovviamente dal nostro sistema autonomo e dai nostri riflessi da quello che ci permette quindi di sopravvivere and control comes from the top down control that the nascent um cortical uh regions of the brain then develop and then control the body in motion e invece il controllo viene dall'alto verso il basso nella parte corticale appunto del cervello che viene sviluppato e poi controlla quindi il movimento del corpo so this model that we have that we somehow find out on our on uh extends to society so then uh the auto each autonomous agent in society we somehow create a system that controls them and so people are conditioned to do things that they might not necessarily like to do we all acquired big debts e quindi we sorry we all acquire people are conditioned to do things that they might not necessarily want to do quindi le persone vengono condizionate nel fare delle cose che loro non necessariamente vogliono fare we acquire big debts e quindi abbiamo quindi una sorta di creiamo un grande debito we live our lives such that we don't own our lives e viviamo la nostra vita ma non essendo padroni della nostra vita we lose our agency quindi perdiamo proprio la nostra abilità but we are born free ma siamo nati liberi quindi quando ho visto questa cosa in particolare nei bambini con lo spettro dell'autismo it it broke my heart because um as neurotypical adults we can make decisions perché mi ha spessato il cuore perché negli adulti neurotipici loro possono prendere le loro decisioni so if you want to buy an expensive car because you want to impress your girlfriend and acquire a debt that will force you to have to pay this for the next nine years of your life okay you made that decision but in a child and particularly a child that is so fragile and you um you need to support the child and so forth and you're making decisions for that for that child on behalf of that child and these decisions are not necessarily fair to the to the child so particularly because when we came to autism and we measure their bodies in motion we realized e perché in particolar modo quando siamo andati appunto nei bambini con l'autismo abbiamo misurato le loro emozioni corporee abbiamo realizzato we realized that their 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 movements were very dysregulated their their biorhythms of 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 their generated by their nervous systems were very dysregulated e abbiamo notato che il biorhythms generato appunto dal loro sistema nervoso era molto sregolato so normally our biorhythms which are continuous um fluctuate in ways that inform our brain of what we're going to do next so that what we think we are going to do almost always matches the consequences quindi quando pensiamo di andare a fare qualcosa quasi sempre si combacia con quelle che sono le conseguenze of what we do di quello che facciamo i intend to do this ho intenzione di far questo i physically implement what i intended to do quindi fisicamente implemento quello che ho intenzione di fare quindi la conseguenza di quello che faccio combacia con quello che avevo intenzione di fare quindi io attrattengo l'azione mantengo l'azione, prendo l'azione no controllo, la possiedo, ok it's my action eh sì, è la mia azione, la mia propria azione so I can understand this is me acting quindi posso capire che questo sono io che agisco versus this is him acting contro il questo è lui che agisce e questa è la prima premessa per stabilire una interazione sociale ma quando le tue azioni sono così disregolate che quello che vuoi fare non combacia con quella che è appunto la tua intenzione come fai a sapere che sei tu a fare l'azione and that brings uncertainty and uncertainty brings anxiety in the lives of that person and that shows in all the disregulated biorisms that the child has all, yeah e questo porta indecisione, l'indecisione porta dell'ansia e questo qui appunto si mostra in questo bioritmo disregolato che ha appunto il bambino now what happens is all of this is invisible to the naked eye e il fatto è che quello che succede è che tutto questo è invisibile ad occhio nudo e quindi tutte le persone che fanno diagnosi dell'autismo che trattano l'autismo avevano l'impressione che il bambino facesse questo qui di proposito e quindi se il bambino correva dappertutto, urlava o sbatteva la testa contro il muro oppure faceva questo movimento così con le braccia e diceva che questo qui a livello sociale è inappropriato e quindi hanno sviluppato dei trattamenti per renderlo socialmente appropriato e i trattamenti avevano lo scopo di controllare socialmente il bambino e allo stesso tempo noi invece abbiamo messo dei sensori abbiamo messo delle camere tutte queste cose per cercare di guardare all'interno del bambino e poi stavamo appalled siamo appallati eravamo orrifie horrified eravamo quasi horrified oh my god dios mio oh my god in spanish dios mio oh mio dio quando hanno visto questa cosa because there you are trying to control a child, judging a child putting all the societal resources everything, thinking you're helping and you're actually harming the child unintentionally 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 non intentional you're trying your best so it occurred to me then that it was critical to go beyond the limits of the naked eye e quindi ho cercato di per me è stato critico il fatto di andare proprio al di là di quello che guardava l'occhio vedeva l'occhio nudo and and create opportunities to measure as much as we can which is never enough because we will have something we will always be missing something but at the very least understand that the child is not intending to be socially inappropriate ma almeno cercare di capire che il bambino non ha l'intenzione di non essere socialmente approvato adattato appropriato e quindi siamo andati per tutto il percorso indietro fino al momento in cui il bambino è nato per capire che cos'è che è andato storto da quel momento fino al momento in cui è stato diagnosticato che aveva già quattro anni o quattro anni e mezzo yeah so then all of our research program has been creating opportunities to quantify what happens e quindi i programmi di ricerca hanno cercato di creare appunto proprio dei programmi per quantificare ciò che è successo and instead of controlling top down the child to do what we think should be going should be doing and measuring the error that we think was made against what we wanted the child to do quindi invece di fare appunto questa mirosazione dall'altra verso il basso e misurare quello che noi pensiamo che il bambino dovrebbe fare e abbiamo cercato di far sì che le persone si spostassero in questa modalità nel momento in cui il bambino appunto è nato che è appunto il momento in cui il bambino esploro il bambino è curioso e chiedendoci che cosa se faccio questo che cosa succede instead of saying you need to do this and repeat until you do it because I'll be measuring the error from where I said you needed to do it invece di dire tu devi fare questo e lo ripeti fino a quando sarai in grado di farlo io misuro l'errore che viene fatto fino a quando appunto tu sarai in grado di farlo so instead of me telling you you need to do this do it and I will tell you when you reach that quindi invece di dire io ti dico di fare questo e tu lo fai e ti dirò io quando sarai stato in grado di raggiungere appunto a fare questa cosa the idea is that you yourself self-discover what you need to do through exploration what you need to do to reach that that you self-discover you need to do e invece l'idea è quella di cosa del fatto che tu debba capire tu che cosa devi fare attraverso la tua propria esplorazione che cosa devi fare per te stesso per arrivare appunto a fare questo quello che vuoi tu because in that way you have the autonomy you have the you have the agency to do what you need to do you have the agency to learn to teach yourself to enjoy the outcome of what you did and you own it it's yours perché in quel momento tu hai il tuo controllo la tua utilizzi la tua abilità e sei in grado di essere proprio tu il proprietario di avere la di ottenere di avere proprio la risorsa di quello che tu hai ottenuto con te stesso di avere la propria tua and nothing beats that e nulla batte questo that's that's humanity that's who we are questa è l'umanità questo è ciò che siamo noi yeah but sadly we are trapped in a different we are trapped in a world that kills our agency all the time ma noi siamo la realtà che noi siamo intrappolati in un mondo che uccide le nostre abilità costantemente yeah so in Feldenkrais even though I don't know much about it the essence that I got out of it in my brief exposure to it this is it it gives you the foundation to maximize your agency ti dà le fondamenta per massimizzare quella che è la tua abilità and by making you aware of that ability and of that ability in in a community you build communal agency rendendoti consapevole di questa abilità e rendendoti consapevole di questa abilità nella società rende una società comune so I think it's a it's a potential treatment for autism it's a potential way to help these kids from the get-go penso che sia un trattamento potenziale per aiutare questi bambini per aiutare questi bambini nel ghetto so I want to learn that's why I'm here quindi voglio imparare ecco perché sono qui yeah and what I bring to it is is this ability to measure at a micro level that the naked eye misses what 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 transpires in the learning process e quello che voglio fare appunto è quello che voglio misurare quello che perde l'occhio nudo but that the naked eye misses so so we can then quantify at a micro level in modo da poterlo quantificarlo proprio a livello microscopico quindi questo vuol dire che è molto accessibile come ad esempio attraverso un cellulare yeah or a camera a video camera or or perhaps more sophisticated with sensors like the ones that Richard has been using to to measure some of some of the teachers yeah so now I'll just show you because I have I have a whole talk but I won't do that because I've been already you've been very generously giving me your attention so I will just show you examples of complex movements that we can quantify and and then ways to quantify just from the face just so let me and if we said so how do I make these big so I can see my slides here are the slides okay down here the slides and so here is one example that we recently um c'è un esempio che abbiamo fatto di recente we recently um no but this is not the this is not the presentation no just a second it's the other presentation that so there is a there is a different presentation that I was working on c'è una presentazione diversa sulla quale stavo lavorando do you know I think it it got saved in the hard drive instead let me but I'll just show you uh a little bit of the um just a little bit of the so this is one example of uh something very fast that we can do with a cell phone which is based on the 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 very complex structure of the nerves that innervate the face and the muscles that produce movements in the face at a micro level that yeah and so in the last maybe five to ten years there has been a revolution in the field of computer science with artificial intelligence and machine learning methods we can now take video and recover build like a skeleton of the body or the face a grid and we can estimate very precisely points on the body and track them so this is an example of that where you can take a video of the face and there is a grid in the face that we can then track each point in this case we have 70 points in a grid on the face and there is a 17 or 70 point i don't know it's called 17 17 but don't worry about it yeah so no 17 17 17 don't worry about it we just go with this it doesn't have the videos of the yeah so this this is for example the the grid and then the red the black and the blue are areas that are innervated by the trigeminal nerves that control a lot of what we do eye movements swallowing speech listening il movimento degli occhi il deglutire il discorso il linguaggio proprio anche l'udito yeah and so they they are critical for developing language communication emotional expressions e quindi sono proprio critici importanti per proprio lo sviluppo del linguaggio anche delle espressioni so we decided to create an app that measures this very very fast and begin shifting the perception of what these children are doing and what we're observing the behaviors that we're observing because now with these subjective screeners that are based on observation alone because now with these screenings soggettivi they are based on observation they say these children lack empathy they're doing these things intentionally to annoy you or they're asocial and so on very judgmental so that's not even the tip of the iceberg e questo qui non è neanche la cima della sì la parte alta dell'iceberg so now we see under the iceberg with an objective reality that we can measure and it reveals that the child needs support that the sensory motor code is out there e invece questo qui quello che vediamo sotto nella parte dell'iceberg quello che vediamo noi a livello fenoggettivo che il bambino ad esempio ha bisogno di supporto e il bambino ha bisogno anche dei codici motosensoriali che sono alterati it's in pain the child is in pain and this is something we have quantified e il bambino ha del dolore ha del dolore questa cosa qui noi l'abbiamo quantificata and so with a simple app we take five seconds of data from facial expression like I've done this with some of you e quindi con questa applicazione molto semplice che dura cinque secondi abbiamo preso delle espressioni appunto visive cosa che abbiamo fatto con alcuni di voi and we can then see the differentiation between different engagements of the facial muscles and the micro expressions of the face when you project an emotion that we ask you to maybe be surprised or happy or sad abbiamo visto i cambiamenti che ci sono appunto nelle espressioni macro facciali appunto del bambino quando gli abbiamo detto ad esempio di cambiare espressione come nell'essere felice o l'essere triste so here is an example of a software that does this gathers this data it's a software developed by Carnegie Mellon e questo qui è un esempio di un software che sviluppa appunto questi questi dati è un software sviluppato what's the name sorry Carnegie Mellon Carnegie Mellon ok è il nome della compagnia che ha sviluppato questo software and it's available for research ed è disponibile per la ricerca and there are many of these nowadays e ora oggigiorno ci sono tanti di questi software and we have adapted it to a cell phone so we can do this with a cell phone that you can download at home and send send us the data and we just look at the grid instead of your identity so we protect the identity of the person in the research we look now in the research stage we look at the video but when this is ready for just for using clinics or it protects the person's identity e noi abbiamo creato appunto un'applicazione che può essere utilizzata col computer si possono fare queste fotografie vengono inviate noi i dati ma noi a noi viene solamente questa griglia noi non vediamo immagini nel viso ok loro utilizzano anche l'immagine nel viso però quando verrà poi distribuita a livello clinico i dati che verranno ricevuti saranno solamente questa griglia in modo da proteggere l'identità privata quindi della persona è un po' come lo stregatto di alice nel paese dei meraviglie oh yeah 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 che è rimasto quando è rimasto solamente il sorriso e ad esempio questi sono dati che possiamo appunto tracciare come lo sguardo lo sguardo interdimensionale and sorry the gaze you said yeah the gaze in tridimensionale la tridimensionalità appunto dello sguardo the grid e la griglia questo tracciato appunto del viso and the universal action units because across cultures we have humans have muscle units that produce certain coarticulations certain synergies e nella nella nostra evoluzione nella nostra cultura comunque abbiamo dei muscoli che producono determinate smorfie so when we went to see children on the spectrum versus children just neurotypical children we saw profound differences in how the muscles are engaged quindi quando siamo andati a guardare i bambini con lo spettro dell'autismo piuttosto che con bambini con sviluppo neurotipico abbiamo visto che i muscoli del viso avevano erano impegnati in modo molto diverso e questo qui ad esempio è un esempio come un bambino atipico esprime la felicità contro la tristezza quindi scusate il tipico rispetto all'atipico che noi lo chiamiamo neurodiverso quindi noi stiamo facendo dei campioni in modo molto vasto nella popolazione per cercare di capire le differenze so so here other other things that we can quantify with these new methods we can quantify the hands and the full body and it's non-invasive but it gives you a lot of information about much more than what the naked eye can capture quindi noi quello che possiamo quantificare con questo metodo è ad esempio la mano ma anche il corpo completo e noi possiamo appunto catturare tutte queste cose che l'occhio nudo non vede a livello non-invasivo yeah so I'll end there but I perhaps want to show you our latest data acquisition which we did finirò qui ma posso mostrare l'ultima raccolta dati che abbiamo fatto l'ultima revisione dei dati che abbiamo raccolto ok I see what what happened there let's see if I can grab it from the from the hard drive sto cercando di vedere se riesce a prenderlo dal disco rigido well it's interesting it's not reading it no non lo legge it's not reading it but this is one example non lo sto leggendo ma questo qui comunque è un esempio non so se riuscite a vederlo it's very this is a child on the spectrum in this in what is called the severe end of the spectrum e questo qui è un bambino che ha ad uno stadio severo grave dello spettro and of course to see in perspective you would have to see a neurotypical control but this is this is not letting me somehow um non me lo fa fare yeah somehow it's not reading the it's not reading the presentation no non riesce a leggere la presentazione No, non legge purtroppo la presentazione. Ma sappiamo dalla neuroanatomia del sistema che è molto probabilmente che il problema nasce dal, come si chiama, il brainstem, il tronco cerebrale, grazie Piero. Quindi sappiamo che questo inizia in il brainstem che ha tutti questi 12 nervi craniali quindi incomincia dal tronco cerebrale che ha questi quattro nervi cerebrali e sono vitali per le funzioni basi. E sono organizzati nella parte motoria e sensoriale. La motoria è quella del flusso efferente e sensoriale è il flusso efferente. Quindi l'apesto mancante in questo quando abbiamo incominciato è che il movimento che produciamo ha con sé delle variazioni, delle fluttuazioni. che torna indietro in forma di feedback e è quindi un codice riafferente. Quindi il flusso riafferente vuol dire che tu, te, proprio te stesso lo produci. E quindi questo qui ha in sé delle informazioni che ti dice la causa, dice se l'hai prodotta tu, lo produci tu. E questo qui è quello che ti permette di controllare il movimento. Quindi non è quello che metti fuori in sé. Ma è la conseguenza di questo che tu hai messo fuori. la conseguenza di questo qui che ritorna al tuo cervello. E tu non sei consapevole di ciò. Ma invece Feldenkrais lo porta alla consapevolezza. Ed è in questo senso che Feldenkrais potrebbe prendere la chiusura per aiutare questi bambini. Ed è in questo senso che forse il Feldenkrais può avere la chiave in sé per appunto poter aiutare questi bambini. Perché il loro codice che va all'esterno, il loro controllo volontario è stato interrotto. Ma non i loro movimenti spontanei. Quindi potrebbe essere possibile portare questi movimenti spontanei alla consapevolezza. e utilizzarli come una cancellazione del rumore. In modo che loro possano riottenere il controllo di questo messaggio riafferente che ottengono. e che possono utilizzarlo. E quindi questo è il progetto. E abbiamo fatto delle prove, abbiamo ottenuto delle prove che questo qui funziona, che questo qui abbassa il rumore che c'è nel sistema nervoso del bambino. E lo rende un codice prevedibile. E quindi loro possono controllare le loro azioni, sono proprietari delle loro azioni e guadagnano le loro abilità. Sì, so I'll stop there. Mi fermerò qui. E mi fermerò qui. E in realtà adesso proprio la giusta presentazione qui. Questa è parte di usare questi metodi solo per giocare. Perché possiamo anche farlo per le arti, il ballet e così via. E' molto amenabile per studiare interazioni tra due persone o più. E questo metodo può essere anche utilizzato per divertimento, si può utilizzare anche nelle arti, come ad esempio anche nel ballo, per vedere quella che c'è, quella che è l'interazione tra due persone. Quindi non so se sarà troppo alto. 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 E questo è stato in una festa di ballet in cui… Questo è stato durante le prove in un ballo. and we were able to to record in real time and estimate the poses and then compare them with more sophisticated sensors that gave us those skeletons and so we could study this in great detail. E quindi siamo riusciti a registrarlo in tempo reale poi dopo appunto abbiamo sviluppato abbiamo utilizzato degli altri programmi e you used other software more sophisticated e hanno utilizzato dei software più sofisticati per appunto produrre anche la postura so we can use it in many different areas we can use it in autism we can use it in dance we can use it in sports and so the same methodology is very versatile quindi lo possiamo utilizzare in vari campi lo possiamo utilizzare per l'autismo lo possiamo utilizzare nella danza lo possiamo utilizzare nello sport quindi è una cosa molto versatile e quindi chiuso con il lavoro che sta facendo Richard which we're using in infants e questo è stato utilizzato nei bebè with a simple app we can take a minute and a half video the parents take this at home con un'applicazione molto semplice i genitori possono fare un video di un minuto e mezzo possono farlo registrato a casa and track the baby's development week by week it's very simple the parents just take a minute and a half video send it to us we analyze it and we can track the general movement development the general movement theory has the baby transitions from writing movement to fidgeting movement to intentional anti-gravity e quindi noi possiamo tracciare settimana dopo settimana lo sviluppo proprio del bambino i genitori possono fare questo video di un minuto e mezzo mandarlo a noi non lo analizziamo e possiamo vedere quello che è lo sviluppo dei writing movements dei movimenti writing si chiamano i fidgety movements per quel che riguarda i movimenti generali del bambino fino a quando arrivano appunto a fare i movimenti intenzionali e dei movimenti antigravitazionali dove vengono coinvolte appunto anche le articolazioni e quindi questa è una cosa molto scalabile che si può fare anche a casa e questo qui dà anche proprio della forza ai genitori perché diventano dei collaboratori non diventano più parte di un esperimento e quindi di nuovo riguarda di nuovo le abilità umane so that's it I think that that was what Eilat sensed in the lab e quindi penso tutto qua penso che questo sia quello che Eilat ha sentito nel laboratorio do you have time for some questions yeah yeah I have the tempo for delle domande se avete delle domande yeah feel free to ask anything it's you know up for grabs sentitevi liberi di chiedere qualsiasi cosa non vi preoccupate forse mi sono persa una parte perché ero al bagno maybe I lost I missed a part because I went to the toilet ma mi sono molto incuriosita del track del tracciamento dei due ballerini I was very interested when you were you showed the tracking of the two dancers mi sono incuriosita di queste parti che si illuminavano tipo lo sterno aveva un color rosso and I was curious about those parts they were getting more light like for example when the sternum was red però non ho capito che cosa si andava a ricercare cioè la relazione tra di loro but I couldn't understand what you were looking for were you looking for the relationship between them quindi se puoi dire qualche parola rispetto a quella parte lì so if you can say something about that part yeah so this was just data acquisition noi stavamo semplicemente cercando di acquisire dei dati so we we can then look at the at the very complex trajectories of all the different body parts quindi poi possiamo guardare alla alle traiettorie anche particolari delle diverse parti del corpo e poi noi abbiamo vari dati diversi dati da queste parti veramente complesse appunto del corpo and we can compute because these are all bioritmo e possiamo computizzare quello che è il loro bioritmo e possiamo compute the physical entrainment of the two dancers e possiamo anche appunto computizzare quello che è il movimento dei due ballerini much like in this example so I'll play this real quick this is by Uri Hanson at Princeton University in a TED Talk è un po' come questo esempio qui di Uri Hanson che ha fatto all'università we got to share right and it it shows you how spontaneously the biorisms entrain and come to synchronize with each other and this is something we can measure in those dancers I'll point you to a paper where we explain the message and we show it and we sorry we care e qui possiamo vedere come in modo spontaneo il bioritmo si si sincronizza questa cosa che misuravamo anche nei ballerini e l'ho scritto in un in un articolo scientifico che si può anche leggere yeah and so quindi vedete che cosa succede a loro insieme quando li mento appunto sui cilindri e vedete che poi pian pianino incominciano a sincronizzarsi insieme so this exact thing happens physical entrainment this physical entrainment questo physical entrainment allineamento physical ah ok this physical entrainment occurs between two bodies in motion even when the motions are microscopic quindi questo allineamento fisico avviene anche tra due corpi anche quando i movimenti sono microscopici and so you can track the entrainment and detrainment as puoi proprio tracciare l'allineamento e la disilinamento non mi viene dis dis allineamento yeah so this is quantifiable so we've created the ways to quantify this as you're as you're doing e questo qui è quantificabile quindi abbiamo creato questo modo di quantificarlo mentre lo si fa yeah ok yeah thank you thank you another one in realtà avevo due domande actually i have two questions yeah una era legata a quei sensori che riprendevano le espressioni facciali one is connected to the sensors that are tracking the face of the kids volevo capire rispetto alla differenza che c'era tra bambini nello spettro e bambini neurotipici qual era il risultato che era uscito se c'era più variabilità o se erano più forzati non so qual era il risultato i would like to know what the difference was what the result was the difference between the neurotypical kids and the kids with the spectrum i would like to know what the difference was if one was more tracked or more present i don't know so there are many differences but one that is kind of common to all of them is an incredible amount of random noise a credible amount of random noise random noise random noise thank you eh ci sono tantissime differenze ma una che gli accumulava tantissimo era questo eh rumore random proprio casuale casuale yeah so noise is the ratio between the variance and the mean of the signal quindi il rumore è proprio il ratio che c'è tra il significato e the mean and the the variance la variante yeah varianza divided by the mean quindi la variante è divisa dalla media e quindi se hai un sacco di varianti poi quella che è appunto la media eh abbassa quello che è il rumore è come quando nel tuo cellulare la barra appunto è molto la batteria diciamo la barra è molto bassa like the bar that says how and and so you can't communicate but when the bar is high good signal la barra proprio della della presa della della linea quindi quando la barra è piena è un buon segnale the main of the signal is much higher than the variance of the signal quindi la media della della variante è molto più in alto rispetto al segnale it's like that è così quindi vorrei fare un esempio non so se eh sono giusto se sbaglio oppure no somebody is yeah can i i mean the the mean is okay il meglio va bene il meglio va bene la variante ok yes so exactly like it was here if somebody is throwing a basketball to the basket e quindi ad esempio ehm se qualcuno lancia una palla eh palla da canestro appunto nel canestro the variance is very big so the times that he will be and let's say the main is in the basket sometimes you miss to the left sometimes you miss to the right or up or down the mean could be perfect but if the variance is very big then the number of shooting right is very small se le varianti sono molto grandi sì la media può essere giusta ma se le varianti sono appunto tantissime il fatto che tu riesca a fare un lancio preciso a colpirlo diciamo precisamente è molto piccola is it is it a good example un buon esempio i missed it come again scusami di nuovo i'm saying if you throw a basket a ball to the basket yeah and the mean is on the basket but the variance is very big so many times you will be off to the right off to the up all kind of places the times that you will shoot right the number of times is very is too small in order to learn from it yeah so it's more like if you it's more like if you i'm sorry yeah no vi diceva appunto che se tirate la palla volete tirare la palla in una palla da canestro le varianti sono tantissime eh eh la media comunque è quella appunto di tirare nella la palla nel canestro diceva il fatto che tu riesca a tirare la palla giusta nel canestro con tutte queste varianti si può tirare a destra sinistra sotto sotto però il fatto che tu riesca appunto a tirarlo bene nel canestro hai poche possibilità piccole possibilità giusto farlo yes it's like that so if it's like when you throw the ball quindi si è così quando tu lanci la palla so your basket is the target e quindi appunto il canestro è il target the closer you get to the target più vicino tu arrivi al target the smaller the error e più piccolo è l'errore as you do it repeatedly e quando tu lo fai ripetutamente and you compute the mean of what you did of that error e tu computizzi quello che è questo errore so if you if you had very small error all the time se ogni volta hai degli errori che sono molto piccoli versus if you have very large error all the time contro il fatto che tu invece magari hai degli errori molto grandi tutte le volte ok if you compute the variance of the times that you have very small error ok se tu computizzi quelle che sono le varianti nei momenti in cui tu hai degli errori piccoli so that's going to be smaller variance than if you had very large errors e questo sarà una sarà più piccolo rispetto al fatto che se tu invece hai delle varianti quindi l'errore sarà più piccolo rispetto a invece ad avere delle varianti molto più grandi moment by moment you make small errors or large errors moment by moment if you consistently do that e momento dopo momento lo puoi rendere o più piccolo o più grande se sei consistente nel farlo then you can begin to build a prediction of what you're about to do allora puoi iniziare a costruire quella che è la predizione di quello che stai per fare e puoi anche predire in modo molto preciso nel dire andrò a fare un errore molto piccolo or I'm going to make a very large error o andrò a fare un errore molto grande perché se sei consistente intendo che anche le varianti sono consistente ma se tu appunto continui a provare prova dopo prova you don't have a consistent error se dopo prova quindi dopo prova non hai un errore consistente your error is random e il tuo errore è casuale it's very hard to predict what you're going to do next è molto difficile predire che cosa andrai a fare dopo and that's what we find e questo è quello che abbiamo trovato in the in the autism spectrum nell'ospetto dell'autismo yeah and now the second question and now it's much more clear l'altra domanda che avevo l'altra domanda che avevo invece era rispetto a quando hanno calcolato il dolore che provavano questi bambini and the other question I have is that when you talk about the fact that you measure the pain of these children era riferito in generale o quando hanno questi movimenti involontari o durante un trattamento specifico and is it in general or in a specific moment or when they get a specific treatment yeah so this is work by another graduate student mona el-sayed e questo è il lavoro di un'altra studente che si è diplomata mona el-sayed el-sayed who worked in collaboration we worked in collaboration with someone from tel aviv university e abbiamo lavorato in collaborazione con qualcuno dell'università di tel aviv professor barchalita in tel aviv e professor barchalita in tel aviv and they and dr david janinsky in rambam hospital e dr david janinsky david janinsky david janinsky nell'ospedale di rambam so they brought this paradigm it's very simple where you put a blood pressure cuff e quindi hanno hanno portato questo e questi strumenti dove sono molto semplici e come lo strato della della quando si misura la pressione del sangue and and then you leave it instead of taking it off when you uh um pomplated okay you leave it e quindi hanno messo appunto questi questi cosi per misurare la pressione questi strap li hanno ehm gonfiati sì e li hanno lasciati lì invece di poi rilasciarli e questo qui ha indotto una sensazione di dolore attraverso la pressione e puoi anche indurre della dolore attraverso la temperatura ma questo qui era attraverso la pressione so we use it to understand the heart signature e quindi abbiamo eh utilizzato questo per eh capire eh la tipo la firma in un certo senso proprio del cuore eh when your heart beat from moment to moment e quando c'è appunto il battito cardiaco da un momento all'altro we measure the inter beat interval timing e abbiamo misurato l'interbattito inter beat yeah interval interval all'intervallo sì scusatemi yeah timing the time of between beats quindi sì proprio l'intervallo il tempo che c'era tra i battiti and we study the frequency range of that e abbiamo misurato anche l'intervallo della frequenza di questa cosa high frequency low frequency quindi ha una frequenza alta e c'è una frequenza bassa invece c'è so we we found that when people experience pain they have in the lower frequencies an abnormal high value e quindi abbiamo abbiamo misurato che quando la persona hanno del dolore nella frequenza bassa c'è un intervallo alto e e abbiamo preportato anche delle persone con del dolore cronico oltre appunto a queste persone che invece abbiamo alle quali abbiamo indotto del dolore con questa appunto cosa della pressione so we could have a signature of pain that we could characterize through the heart signature quindi abbiamo avuto questa questa firma diciamo appunto del battito cardiaco che viene caratterizzato in base al battito and we looked in the literature and and many people had studied flight or fight mode e abbiamo guardato anche proprio nella letteratura che e abbiamo guardato questi studi che sono stati fatti nella nella modalità di lotta o uh com'è che era di esatto sì combatto o scatto scappo arrivo during anxiety and you know these things and it is that signature in the in the lower range of the frequency abnormally high e quindi appunto questa questo segno nella bassa frequenza è in modo anormale molto alto which is a signature of abnormally high sympathetic nervous system e questo qui è un segno di normalità nel sistema assimpatico simpatico simpatico nervous system simpatico engages when in flight or fight mode when in danger you you have to leave you have to run away from your prey or it's it's called fight or fight mode quindi appunto è stato misurato in questa modalità di combatto o scappo appunto si chiama fight or fight to your system it's like this quindi il tuo sistema è agitato e proprio è proprio così that's the baseline of the children on the spectrum of autism e questa qui è la linea base nei bambini con lo spettro dell'autismo baseline e quindi che cosa intendi per bassa frequenza è la bassa frequenza nell'intervallo appunto tra i battiti del cuore quindi questo vuoi no no it's it's just the frequency is it's abnormal so normally we are in a in a range of frequency that beat by beat it's reproducible is periodic here is random quindi solitamente nella frequenza del battito cardiaco abbiamo una frequenza che è costante invece in questo in questo caso qui la frequenza è casuale so what is big is the is the very quindi ciò che è più grande è la variante is very high it's very high la variante si è molto alta yeah and the noise is very high il rumore quindi è molto alto again is very random e di nuovo è molto casuale and and the fact that they're in flight or fight mode is is just very bad because it everything else becomes very disregulated e il fatto che loro siano in questa modalità o combatto scappo è molto è brutta e non è una cosa bella perché questo qui rende tutto il resto il resto disregolato it's like being in high distress all the time e come essere completamente in stress per tutto il tempo è una cosa che viene dalla nascita o è qualcosa che avviene invece quando non riescono ad avere il controllo so i think it's both penso che sia in entrambe le cose but we now know that at birth e ma ora sappiamo che alla nascita there is a a delay in in the latencies of sound processing c'è un ritardo nella latitanza proprio della della processo c'è un ritardo nel processo del suono which is almost two milliseconds uh prolonged delayed che c'è questo ritardo di due millisecondi and that upsets everything else e questo qui disturba tutto il resto but we don't know that there is a problem until the child is until the child is four and a half years old on average ma noi non sappiamo che sia un problema fino a quando in media il bambino ha quattro quattro anni e mezzo so for four and a half years the child lives in a world uh his perception of the world is altered e quindi per i primi quattro anni quattro anni e mezzo bambino vive in questo mondo dove la percezione del mondo è alterata so we know from from the literature because every baby when is born is given a test called auditory brainstem test e noi sappiamo dalla letteratura perché ad ogni bambino che nasce viene fatto questo test della del corpo no di nuovo no the brainstem tronco celebrale mi dimentico sempre sempre e per quel che riguarda proprio il discorso dell'udito yeah and so the 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 literature has characterized these seven peaks the seven peaks of the waveform response from that test that the baby gets a birth e quindi la letteratura ha dimostrato questi sette picchi che viene appunto vengono calcolati e quando viene fatto questo test nel bambino alla nascita so it's starting come risponde il bambino sorry it's starting at the cochlea in the ear e incomincia quindi nella cochlea appunto nell'occhio e nell'orecchio or going all the way through the brainstem in the pons in the mid brain all the way to the primary auditory cortex so each peak in that waveform quindi ogni picco che vedete in quelle onde la informa di onde gives us the time it gives us the time when when that peak is is attained so that means when the when the sound arrive ci da proprio il tempo in cui questi picchi appunto avvengono quindi quando arriva il suono at each of these regions in ogni in ognuna di questa regione and we can give different pulses different uh intensities of the sound e possiamo dare anche degli impulsi diversi dell'intensità diversa al suono so when we measure babies e quindi quando misuriamo i bebè newborn babies i bambini appena nati that four years and a half four years and a half had the diagnosis of autism versus babies who didn't who just grew up neurotypically for each one of these uh peaks representing each one of the brainstem regions ognuno di questi picchi e rappresenta eh una una parte eh della del cervello delle regioni del cervello cerebrali we found a shift e abbiamo trovato che c'è uno spostamento e a delay in the in the processing of the sound e proprio un ritardo nella processazione del suono e abbiamo notato che questi bambini riuscivano a processare solamente una piccola parte dello spettro di eh di tutti questi suoni di tutto il suono so if if they were if they were in the same in the same uh regime those two curves would be overlapping quindi se erano se fossero nello stesso regime allora queste due curve eh si sovrapporrebbero but you see how they are no potete vedere come sono e poi abbiamo misurato abbiamo eh constatato che c'è 1.74 millisecondi di ritardo in a system that computes at microsecond time scale e in un sistema che compiuta microsecondi eh nella scala del tempo nella scala del tempo nella scala del tempo è microsecondi sì microsecondi an order of magnitude delayed an order of magnitude sì un ordine quindi di magnitudine dei secondi insomma very delayed e quindi è un ritardo molto grande so that explains a lot of what we see a lot of what the behaviors that we see in this in this children trying to understand the world e quindi questo spiega tanto di quello che noi vediamo nel comportamento di questi bambini che cercano di capire il mondo but the observers are saying this is an inappropriate social behavior ma this is uh intentionally done e questo ma chi osserva dice questo qui è un comportamento inappropriato eh sociale questo viene fatto di proposito yeah so it 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 broke our hearts e questo ci ha spessato il cuore yeah i really would like you to continue with the lecture if you will be willing next week or after the break because it's fascinating yeah e vorrei che tu magari se vuoi andare avanti con questa presentazione e dopo la pausa la prossima settimana perché è veramente affascinante and i wonder about one thing from feldinkreis point of view e mi domando da un punto di vista feldinkreis feldinkreis always use the word listen e feldinkreis utilizza sempre la parola ascolta ascolta ti and and people are wondering how can i listen to my arm how can i listen and there is a beautiful lecture of feldinkreis why does he use listen and not see because to use seeing we're much more used to than listening e le persone spesso si chiedono ma come faccio ad ascoltare il mio braccio ascoltare proprio inteso listen come ascoltare l'udito e c'è una lezione teorica bellissima dove Moshe appunto spiega perché lui utilizza la parola ascoltare piuttosto che vedere che vedere più una cosa più comune look where your knee is look what it is never does that he's listen oppure guarda dove è il tuo ginocchio guarda dove questo no non lo dice mai lui utilizza ascolta and he says the reason is that vision is a sense that much more depends on what you've learned it's related to your experience e dice che la vista è molto più a un senso che è molto più legato a ciò di cui tu hai fatto esperienza and that's why it makes it more deep and easier actually to change habits if you talk even say the word listen and not look ecco perché è più facile cambiare l'abitudine se si utilizza la parola ascolta piuttosto che la parola guarda so I wonder if there is any relationship to what the autistic children do there is mi chiedo se c'è una sorta di relazione con quello che fanno i bambini autistici e Elisabetta ha detto sì c'è there is we created this data type that we call micro movements e abbiamo creato questi dati che li chiamiamo micro movimenti which we extract from the movement itself che abbiamo che estraiamo dal movimento stesso we can sonify this e possiamo sonificarli and literally listen to the movement e proprio ascoltare il movimento so we use this with dancers e abbiamo utilizzato con i ballerini to listen to the heart of the woman in a salsa dance context e abbiamo ascoltato il suono del cuore durante una competizione di ballo di salsa e nella salsa è l'uomo che conduce e la donna segue e quindi abbiamo convertito questo appunto l'abbiamo spostato nel cuore della donna e facendo sì che l'uomo ascoltasse il ritmo del cuore della donna e quindi facendo sì che lui ascoltasse questo lo seguisse quindi è stata lei poi a condurre l'uomo e lui non lo sapeva e lui non lo sapeva e lui non lo sapeva e succede anche nella vita comune e lui non sapeva che veniva condotto e quindi possiamo veramente seguire il movimento di qualcuno di qualcuno o dell'altra persona in realtà dovrei dire il bioritmo e in un'altra lezione teorica ve lo farò vedere abbiamo fatto esattamente questa cosa con i bambini con lo spettro dell'autismo per renderli più consapevoli per far sì che loro seguissero i loro propri movimenti abbiamo utilizzato il suono, la musica e dei video ma ve lo mostrerò in un altro momento ma il concetto è lo stesso bellissimo quindi se ti va la prossima settimana mi piacerebbe tanto parlare di Gia grazie ah ok quindi quello che facciamo ora che cambierete tra di volgione dopo la pausa e quindi chiudete i lettini e portatevi a tutto e ovviamente fate quello che dovete fare se dovete andare in bagno quello che è e poi finiamo con una cam grazie a tutti ok